Sono a Marano Lagunari in provincia di Udine, questa alle mie spalle è Valle Grottari, è un'area molto interessante, abbiamo appena visto la presenza di numerosi aironi cinerini in identificazione, abbiamo visto una coppia di cavalieri d'Italia, una beccaccia di mare, è un'area che andrebbe tutelata, purtroppo la regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora tutelata, a mio avviso e ad avviso delle associazioni ambientaliste locali andrebbe tutelata come SIC, sito di importanza comunitaria e come una zona di protezione speciale in base alla direttiva Uccelli. Sono intervenuto in merito a questa bellissima area naturale anche in Commissione Europea chiedendo appunto l'istituzione di un'area della rete Natura 2000 e la Commissione ha risposto che devono essere le autorità locali, quindi in questo caso la regione del Friuli Venezia Giulia, a avviare la procedura per istituirvi questo tipo di area, area che secondo me va assolutamente istituita, anche perché è un'area molto interessante, tant'è vero che ci sono delle importanti presenze ornitologiche come gli aironi cinerini edificanti, il cavalieri d'Italia e altre interessante specie avicole. La battaglia purtroppo per Valle Grottari non è finita, siamo riusciti a far sistemare la chiavica ma il Comune molto maldestramente non l'ha fatta per bene, quindi siamo quasi da capo, è urgente chiudere la fuoriuscita dell'acqua dolce quando non supera un certo livello e bisogna poi provvedere all'istituzione dell'area protetta che qua arriva proprio fino al confine. È stata una volontà anche regionale di non inquadrare Valle Grottari fra i SIG o almeno fra le ZPS.